L'analytics è applicabile in tutti gli ambiti, quello che stiamo vedendo nel manufatturiero è più legato al mondo produttivo, delle vendite, della supply chain data oggi e sicuramente poi dell'area final. Oggi FIT è un gruppo multinazionale con sedi in Italia, negli Stati Uniti, in Francia, in Polonia, in Cina, a Monaco, Monte Carlo e in Spagna. Abbiamo una visione immediata di come si compone il paniere dei trasportatori, oltre che di quella che è la differenza tra quanto paghiamo e quanto avremmo dovuto pagare scegliendo il best price available. Grazie